Voi con un abisturrospo? Sì, quel cazzone di Harry Potter! Ma no, è così carino! Senti, Erbione, qual è la formula per far spari? Per far spari? Stupeficium! Ah, allora, stupeficium, Erbio! Ma basta! Bravo! Ok, adesso c'è, Erbione! E' brutto male di farla così di titolo! E' che è Potter, Erbione! E' che è Potter! Ah! Ah! Cosa c'è, Erbione? Eeeh... Non mi ricordo la formula! Quale formula? Ma che riesco a fare così di prova! Certo! 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 E' quella che è rinitata preparata! Ah! 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 C'è prova... Ah! Cosa c'è da ridere, Erbione? Ah! E'... Ah! Nulla proprio! Quale formula? Chi guarda? Guarda lei. Non posso. Sono il tuo professore, Lione. Va bene, mi sembra che guarda un po'... No, non mi guarda te, non mi guarda tra me. Quale formula? Quella della memoria. Il fosforo? Cos'hai qua? No, cominciavo con O. Ah, allora, vediamo, vediamo. Vediamo nulla, però la memoria c'è leggerimenti, cioè, ricordi te, te sei scordato. Ti ricordi qualche formula tu? No, questa non te la ricorda, non hai studiato. Mi ricordo è Oblivion. Oblivion? Sì. Non è dritto, è Oblivion. Ehm, perché l'altra non la conosci? No. Poi l'ha accompagnato con sto c***o, è molto... è una forma da un altro piano. Ehm, no, questa non la conosco, mi devi insegnare. Dov'è Potter? Quella disgraziata, non lo vedo. Dov'è Potter? Non lo so. Doveva farmi un esercizio di geometria, tu hai fatto? Sì. Qual è? Qual è quella forma, la galottina? Il triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Però, come c'è una pazza di lei? Quando canto? Lo sai che in Italia mi chiamano, ma non è da zero? Sempre. Sempre? Hai comprato i miei cd? Sempre. La mia discografia? Sì. Allora ecco perché ha proposto. Ecco perché va sempre avanti rispetto a tutti, perché l'adatta, perché compra i miei cd? Sì. Bene. Vada da Silente, tanto parla mai. Da Silente. E' vecchio vero? Sì. Mi si attrezzano. Così l'hanno detto. Quindi, altri insumi. Vanno con quella formula. Allora, me l'hai impiunta? Sì. Va bene. Dov'è Potter? No, no. È lì o no? Mori a posto? No. Come stanno con i capelli? Bene. Ok. Vada attorno a fare i bordi. No, no. Vada attorno a fare i bordi. Ok. Vada attorno a fare i bordi. Che stai facendo? Perché guarda il basso qua? Stupificio, ma il professor... No, no. Non lo sai che succede in campanella? Non lo sai che succede in campanella? Non lo sai che succede in campanella? Eh, no. Sono divise le stanze. Non lo sai? Ma sai che ricordo tutte le ore. Oh, Madonna. Vabbè, va bene. Vabbè, va bene. Vabbè, va bene. C'è la vera. Eh. Vabbè. Ma non sapevi che è? È la vera che io so... Non so. 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 Vai. Non so. Non so. Hai visto? Però, non so. Non so. Non so. Non so. Non so. che dici allora la pergamena dice che c'è un orcrux da trovare che poi quello che abbiamo noi sarebbe un falso capito 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 non capisci un cazzo dove l'hai studiato dove l'hai studiato allora io però ne ho trovato un altro quale che bellasinello anch'io l'hai preso da silente vero il miniaturro di silente? no l'ho trovato nello studio suo quanti carati sono l'unione? beh questi sono tutti diamanti è un diamante? guarda qua c'è una pietra nera sopra ah non è una cacata di filetta? che bella pietra è bella ma che cos'è un orcrux alunione? sono degli oggetti malvagi no? sei sicura? te l'ho spiegato pure l'uma corno ah cornuto si 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 mi ricorda si si me l'ha spiegato l'ha spiegato no? ma che ci facciamo? Ron tu lo conosci? buona 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 no ma che palla è sempre solo scopata beh si intaglie perché? perché Roni se n'è andato ma tanto che tutto poco a poco però credo che ci fai? e beh perché? che dici invece? io invece dico diverse cose non so che fare ma non so che fare vogliamo fare qualcosa di diverso? e cosa? non mi viene di fare sesso perché sono grandina? e allora che facciamo perché tra sta cacata? ma no senti la musica la senti la musica no ma che c'era le serie che vanno ad arco? senti le voci? no la senti la musica non sento niente ammazza lei che testezza già è un po' triste qua no? ci metti pure tu alla testezza mamma mia io ho fatto queste tipi da notte la storia eh ma no già ho un fuori incandesimi che ci vede in ciuro e poi ci metti questo e quel cazzo e poi ci metti questo e quel cazzo e quel cazzo e dai su un po' di vivacità secondo me vai secondo me vai meglio salutare come se vada come ti fai allora io voglio ballare io voglio ballare le mie in me is rose all the stories that I can't explain I leave my heart open but it stays right here empty for days Grazie a tutti 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 Grazie a tutti